Buongiorno innanzitutto al Presidente del Congresso, un abitué della Puglia, un abitué di Bari, Maurizio Gasparri che con la sua presenza generalmente ci fa capire che siamo in un periodo importante come quello che si sta avvicinando della campagna elettorale. Quando c'è Maurizio Gasparri vuol dire che siamo in corsa, che siamo nel momento in cui dobbiamo correre per un grande obiettivo che è quello che ci vede impegnati in Puglia in particolare per i prossimi mesi con lo sguardo al traguardo delle europee, è un momento importantissimo come è stato già detto ieri, l'altro ieri a Brindisi ma oggi stesso nel discorso introduttivo che il Presidente Gasparri ha voluto tenere. E poi con uno sguardo importante alle elezioni amministrative, in Puglia si vota in tantissimi comuni e si vota in particolare nei comuni di Bari e di Lecce che sono uno comune capoluogo di regione e l'altro comune capoluogo di provincia. Insomma Forza Italia che soltanto alcuni mesi fa ha espugnato una città capoluogo di provincia come Brindisi e qualche mese prima aveva già espugnato la storica rossa Barletta, altro capoluogo di provincia alla sinistra con i sindaci Marchionna Brindisi e Cannito a Barletta, adesso si prepara per la grande sfida delle europee e delle amministrative comunali a Bari e a Lecce e in tutti gli altri comuni della provincia. Anch'io, consentitemi, saluto con particolare piacere Giuseppe Gallo che è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia che quindi da stamattina si occuperà della organizzazione del nostro partito in tutti i comuni della provincia escluso Bari escluso Bari perché oggi celebriamo da statuto il congresso della grande città di Bari che elegge il nuovo coordinatore della grande città di Bari, il nuovo coordinamento della grande città di Bari e eleggerà anche i delegati della grande città di Bari per il congresso nazionale del 23 e 24 febbraio un periodo che quindi tra europee amministrative e congresso nazionale ci vede particolarmente impegnati ringrazio Maurizio Gasparri che ha voluto già anticipare il primo impegno che abbiamo con il 26 un impegno non formale ma di sostanza perché i 30 anni di Forza Italia si celebrano con il ricordo troppo forte e troppo vicino del dolore per la mancanza del nostro presidente Silvio Berlusconi ma si celebrano anche con l'entusiasmo, la gioia, l'orgoglio di chi in questi 30 anni ha vissuto con fierezza il periodo berlusconiano che non è finito perché come ha sempre raccontato il nostro segretario nazionale il berlusconismo non è fisico il berlusconismo è un modo anche di approccio alla politica, ai problemi della gente è un contenuto di valori, di messaggi positivi, di voglia di riscattare il nostro paese la frase riportata dal presidente Gasparri dell'Italia, il paese che amo è quello che noi in piccolo cerchiamo di fare seguendo l'esempio del presidente Berlusconi quando occupiamo incarichi territoriali Bari è la città che amo, la Puglia è la città che amo Gioia del Colle, il nostro coordinatore provinciale è anche vice sindaco di Gioia del Colle quindi Gioia è la città che amo ecco questo è Forza Italia ed è stata sempre Forza Italia io pensando ai 30 anni che andiamo a festeggiare vedo già in sala tanta gente tanti amici che in questi 30 anni ci sono stati, hanno avuto anche ruoli importanti, si sono spesi gente che ha collaborato a organizzare i primi club e i primi congressi i cittadini, i provinciali, non li cito ma li saluto tutti quanti perché mentre loro facevano questo io mi occupavo dell'organizzazione del movimento giovanile regionale e poi quello nazionale saluto i vice presidenti Carrieri e Nocco e saluto ovviamente il coordinatore della grande città uscente che ieri ha terminato il suo mandato anche da coordinatore provinciale e che si appresta a lavorare per il nuovo coordinamento della grande città e proprio a Francesco Paolo Sisto mi rivolgo con la certezza che il futuro ci riserverà buone prospettive adesso Francesco Paolo Sisto dopo quasi dieci anni di incarico di doppio incarico coordinatore provinciale coordinatore di grande città potrà dedicarsi esclusivamente alla città di Bari perché alla provincia ci penserà un nuovo coordinatore provinciale io sono certo che questo favorirà il risultato su Bari e città perché questo suo impegno concentrato solo sulla città di Bari potrà servire a rafforzare il ruolo di Forza Italia nel capoluogo di Regione capoluogo di Regione che è importante per tutti quanti è importante per i baresi ma è importante per i pugliesi perché la battaglia di Bari città è la battaglia preliminare ad una battaglia più grande, si dice la madre di tutte le battaglie che è quella per le regionali che avverranno tra poco quindi caro Francesco adesso a te toccherà di proporci la migliore lista per il Consiglio Comunale adesso a te toccherà proporci una lista forte che ci possa permettere di dire che Forza Italia a una percentuale determinante nella città di Bari io sono certo che questo compito tu lo svolgerai come svolgi con grande attenzione per il Paese e per Forza Italia il ruolo di governo che tutti noi abbiamo voluto sostenere tutti noi mi riferisco rappresentando ovviamente anche la delegazione parlamentare pugliese della quale sia io che Francesco Palosisto siamo fieri di cui siamo fieri rappresentanti lo statuto siccome siamo in un partito come sapete prevede che le candidature del sindaco dei comuni capoluogo di Regione e dei comuni capoluogo di provincia e le liste del Consiglio Comunale siano varate con l'assenso, il sostegno, il supporto della Segreteria Nazionale del coordinamento regionale questo perché la lista del Comune di Bari la lista del Comune di Brindisi, la lista del Comune di Lecce i sindaci dei comuni capoluogo non possono non avere il sostegno anche dei leader nazionali quindi si tratta veramente di lavorare in squadra, in sinergia e di sentirsi tutti in campagna elettorale, tutti candidati io da domani mattina mi sentirò candidato al Consiglio Comunale della città di Bari e sarò al fianco di ognuno dei candidati fatemi dire soprattutto degli ultimi di quelli che con grande fatica decidono di metterci la faccia, l'anima, il cuore a volte anche debuttando per la prima volta ma io sarò a fianco a loro perché so cosa significa essere candidati al Consiglio Comunale so quanto è difficile essere eletti e so quanto è difficile tenere alta la tensione fino a che non sarà l'ultimo minuto, dell'ultima ora, dell'ultimo giorno delle elezioni si voterà molto probabilmente il sabato e la domenica ci sarà un election day che riguarderà quindi anche le elezioni europee io mi auguro e dell'auspicio vi garantisco che accompagna giornalmente le comunicazioni tra me, Francesco Paolo Sisto Maurizio Gasparri e Antonio Tagliani che la coalizione del centro-destra barese in particolare trovi la soluzione migliore per lanciare una sfida forte a un centro-sinistra che pur appoggiandosi su una corazzata basata su gestione di potere essenzialmente tanto alla Regione quanto alla Comune è una corazzata che può essere tranquillamente sconfitta da un centro-destra del quale i baresi e i pugliesi, lo hanno dimostrato già a Brinzi e Barletta sentono ormai il bisogno di disporre io vi lascio con l'augurio che anche il nuovo coordinamento della città di Bari possa godere di questo periodo di grande sofferenza organizzativa alla fine con un grande risultato che è quello ovviamente di bagnare questo lavoro con un successo elettorale anticipo i miei auguri e li ho anche motivato e sostenuto questi auguri con dei concetti che ritengo importanti al nuovo coordinatore al nuovo corso ecco diciamo così del coordinatore della grande città di Bari il collega senatore e viceministro Francesco Paolo Sisto faccio anche gli auguri a chi aveva presentato una mozione alla guida di questo congresso che poi nella giornata di ieri è stata ritirata al consigliere municipale Gianmarco Mari insomma faccio gli auguri a tutti a tutti coloro che hanno deciso di indossare la spilletta di Forza Italia e a combattere insieme a noi una battaglia sicuramente difficile ma non impossibile Forza Italia e Forza Bari grazie 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 Grazie